Allora Presidente dell'Inter chiama Bergamo, senti per domenica allora, senti per domenica facciamo un gruppo di internazionali perché non vogliamo rischiare niente e quindi sono tutti lì e tutte e quattro possono fare la partita che c'è, va bene Presidente dell'Inter metti collina, metti dentro collina, ma tutti gli internazionali, Giacinto eccetera prosegue, 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 per ritornare un attimo alla telefonata adesso tra Moggi e Bergamo, quando in questa telefonata Moggi dice a Bergamo, Bergamo dice a Moggi, ma tu chi ci metteresti? Tu come l'hai fatta? Vediamo se hai studiato, la domanda è che mentre qui si parla di eventualmente di studiare per fare una griglia ed è stata una telefonata ritenuta rilevante nell'indagine perché tra quattro anni abbiamo ascoltato su tutte le tv e in tutte le salse, loro si sono trovate di fronte a una telefonata del Presidente dell'Inter dell'epoca che non solo la chiamano a Bergamo e dici, metti collina, allora Moggi studia e si diverte a fare il rompicapo e questi dicono metti collina, era più grave questo o quello? Ma la domanda qual è la domanda? Perché non l'ha trascritta, colonnello, la domanda è questa, perché non l'ha trascritta?